Buona giornata amici, felice di incontrarci di nuovo. Buona giornata amici, felice di nuovo. Vediamo che oggi sarà una giornata incerta perché ci sarà al mattino bel tempo, una mattinata in prevalenza solleggiata, tra pomeriggio e sere invece formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Quello che invece è bello è che calerà la temperatura. Benissimo, diamo subito un'occhiata ai giornali, allora a partire dalle prime pagine. Il Corriere Adriatico questa mattina intitola la fotonotizia principale alla visita del presidente Mattarella che è venuto all'iniziativa conclusiva del ROF. L'applauso di Mattarella al ROF, il presidente, alla chiusura in piazza. E poi si parla del post-feragosto, ormai le vacanze cominciano un pochino ad impallidire. Il post-feragosto silenzia la movida. La recente stretta sui controlli ha fatto da traino anche all'ultimo weekend frenando gli eccessi. I baby vandali di notte in spiaggia. I gestori chiedono comunque un confronto con il comune e la capitaneria. E poi abbiamo le tre notizie a centro pagina, la proposta Lime dedicata a strada e agli infermieri. Lime è l'istituto che formalizza gli infermieri. E poi a Fermignano voto alla unanimità contro le perdite della rete idrica. A Pesaro per il San Bartolo la promozione passa per la musica. E a Fano invece si parla di carnevale, si parla di due serate veramente intense, molto partecipate in Sassonia. Però ci sono come al solito qualche critica e qualche polemica. E ancora sullo sport il Fano ci riprova oggi a Rivisondoli e scatta il ritiro. Invece sul resto del Carlino abbiamo sempre la foto del presidente Mattarella che applaude al concerto conclusivo del ROF che ha consacrato un po' la carriera di Diego Florez. E poi due notizie un po' così di cronaca. Sesso alla stazione a Fano e residenti filmano il tutto. A Ponte Sasso il mare cancella un'altra fila di ombrelloni. Le mareggiate erodono la spiaggia. E poi ancora Medici, Novax, altri cinque verso la sospensione. Basket, WL, Moretti ai box è ancora positivo. E per quanto riguarda il calcio, Vis, Bizzocchi, tifosi, venite. L'alma si raduna. Vediamo ora le pagine interne a partire dal Corriere Adriatico. E vediamo com'è la situazione del Covid. La curva va in alta lena. Arrivano i giorni chiave per l'effetto ferragosto. Nell'ultima settimana c'è un calo dei positivi e del tasso di incidenza per 100.000. Però salgono i pazienti in rianimazione. Da 6 passano a 10. E le file al pronto soccorso. Vediamo un po' il confronto con il giorno prima. I casi positivi aumentano di 140. I ricoveri in intensiva di una persona. In semi-intensiva una persona. Ricoveri non intensiva meno 5. Il totale dei ricoveri è meno 3, tra intensiva e non intensiva. E poi i dimessi sono più 6. Il totale dei tamponi è stato di 2.683. Vediamo subito ora la pagina di Pesaro. Quella dedicata al Presidente Mattarella. Vedete come i giornali questa mattina, lo sarà anche poi il resto del Carlino, pubblicano tante fotografie di questo evento. dato che la visita di un Presidente nella propria città è un evento sempre da ricordare. Mattarella, standing ovation, roff in piedi per il Presidente. L'ingresso nel silenzio totale della piazza. Insomma, c'è stato come un momento di sospensione vedere il Presidente in persona. Il momento più emozionante è stato quando è apparso. E accanto era la Segre, la senatrice a vita. La standing ovation, prima ancora che per Florez, cui è stata destinata la serata di chiusura del 42esimo Rossini Opera Festival, è tutta per il Capo dello Stato, che con il suo settennato, ormai in scadenza, ha voluto rendere omaggio a Pesaro e al Roff, e al suo creatore, dobbiamo dire, ovvero Mariotti, una visita strettamente privata. Infatti, non sono stati previsti discorsi né momenti pubblici, ma è stata una visita emozionante, dicono i giornali. Il concerto di chiusura è stato dedicato ai 25 anni di carriera del cantante Ioan Diego Flores, che è stato lanciato proprio giovanissimo dal Roff. Una scelta di questo avvenimento che ha fatto nascere una così luminosa carriera e che prosegue ora la ricerca di voci del bel canto, di voci giovani, che poi possono proseguire con una luminosa carriera. E ovviamente la visita di un Presidente crea problemi, crea difficoltà, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. E qui vediamo carroattrezzi in azione non stop in un centro mai così presidato. Soltanto nel pomeriggio, in poche ore, sono state rimosse, pensate, 15 attrezzi. Ma non è finita qui, perché ci sono ieri e poi oggi visite illustre nel capoluogo a Pesaro. Oggi arriva Speranza. Speranza è uno e trino, ma è rischio di contestazione. Nell'agenda del Ministro tre differenti appuntamenti. Direttamente dal meeting di Rimini, dove, atteso oggi per parlare di sanità, il Ministro più discusso del momento, Roberto Speranza, concluderà la sua giornata a Pesaro con tre momenti distinti. E la responsabile del di Castero della Salute aprirà la festa dell'unità di Pesaro da Piazzale Colinuccio alle ore 21.30, intervistato da Gerardo Greco, e sarà una sorta di anteprima. Poi la festa entrerà nel vivo dal 25 agosto in poi. E vediamo le altre notizie. L'exime intitolato a strada un omaggio agli infermieri per Lugli del Movimento 5 Stelle e l'Uovo di Colombo per scongiurare il rischio di trasferimento di questo istituto, il polo didattico della Politecnica, dove si formano e si laureano gli infermieri. Un tributo veramente doveroso a un uomo che ha dedicato tutta la vita per aiutare i più deboli. Movida, il post Ferragosto, ha smorzato l'effetto Bolgia. La recente stretta ha fatto da Traino anche al fine settimana appena passato. Una movida notturna più calma, dicono i giornali questa mattina, nell'ultimo weekend di agosto tra le spiagge e i chioschi, da Baia Flaminia a Sottomonte, passando per Ponente Levante, o almeno questa è la percezione, ad una settimana dei controlli e dalle sensazioni del Ferragosto. L'annunciata stretta e i provvedimenti già notificati ad alcune attività sulla spiaggia per assembramenti o musica oltre i limiti, sembra aver agito da deterrente, spronando i titolari di concessioni e bar al rispetto rigoroso delle regole. Insomma, se non lo fanno le norme così da loro stesse, lo fanno poi le multe. A Urbino si parla di emergenza idrica, prioritario eliminare le perdite della rete. Cleri illustra il documento approvato dall'unanimità dal Consiglio di Ferminiano. Si parla di Ferminiano sulla pagina di Urbino. La mozione della lista civica di minoranza a piazza aperta sulla tematica dell'apprivigionamento idrico è stata portata in Consiglio Comunale dopo un'ampia discussione e partecipazione anche con interventi migliorativi di tutte le forze politiche. La mozione presenta due direzioni. La prima riguarda la necessità del risanamento delle linee di condotta dove le perdite si sembra che superino il 30%. Il secondo tema invece è quello degli invasi per l'approvvigionamento idrico. A Fano si parla di carnevale diffusamente dopo due serate intense trascorse sulle lungomare di Sassonia. Carri fermi smorzano le emozioni. Ebbene sì, i carri fermi non sono quelli che transitano in un percorso muovendosi, generando la festa con il getto, con il brio, eccetera. I carri fermi pur belli, dobbiamo dire, sono stati veramente belli quelli realizzati dai carristi. Ebbene, perdono un po' del loro fascino, fermi come quinte a spettacoli che si fanno nei loro pressi oppure sopra. Grande animazione itinerante in Sassonia, trainata dalla musica rabita che ha così percorso tutto il circuito, apprezzati punti di attrazione sul lungomare. L'allegoria più maestosa tra tutti il Corriere Adriatico questa mattina individua il carro L'amor perduto, la perdizione di Matteo Angherà. Ma proprio questo carro, per il suo contenuto, viene contestato dalle femministe. Alla carnevalesca domina la misoginia, basta con il cliché della donna tentatrice. E dobbiamo dire che il Carnevale con la sua effervescenza adesta sempre delle polemiche. Qualche volta gli ambientalisti criticano il fatto che ci siano i dolciumi, insomma, cose che non vanno. E poi ora i femministi criticano un po' le allegorie, le satire che hanno per oggetto le donne. Feminismi se la prende con la perdizione carnale attribuita al sommo poeta. Ebbene, Dante però ha caratterizzato quasi tutti i carri che hanno stazionato ieri sulle lungomare di Sassonia. Dante in tutte le salse, l'abbiamo visto addirittura dipinto con i colori sul corpo di modelle del building di colori che appunto si tracciano sul corpo. L'abbiamo visto poi sui carri, l'abbiamo visto sugli incontri. Insomma, è stato il tema dominante. E domenica, sabato e domenica prossima, si replica. Si cerca un addetto alla comunicazione dopo un gravoso appalto dei servizi. L'ASET pubblica l'avviso per un'assunzione chiesta anche la laura in professioni sanitari. La confraternità del suffragio si apre alla città. È l'unica confraternità sopravvissuta di quelle che operavano nel XVI e XVII secolo. La confraternità del suffragio. Ed è una visita emozionante quella che si fa nella chiesa del suffragio per l'atmosfera che si respira, per i misteri che si incontrano. Ebbene, uno di questi sarà svelato proprio durante uno di questi incontri. È una serie di incontri che si inizia questa sera alle ore 21.15 quando Anna Manfredi parlerà della congiunzione tra Giove e Saturno. E domani invece si prosegue con Aldo Civitillo che parlerà della vera storia della spada nella roccia. Mercoledì poi interverrà Monsignor Giovanni Tonucci sulle manifestazioni di fede della storia e della pietà popolare. Recentemente la confraternità del suffragio ha condotto un monitoraggio delle edicole di pietà popolare che sono sparse nel comune di Fano individuando anche la più antica. È una edicoletta che sorge nei pressi di Carignano e che purtroppo versa in condizioni molto degradate. Sulla Val Cesano vediamo a Marotta l'ancora, il simbolo di Marotta, il progetto di arredo marino, iniziativa dell'Associazione Malarutta che vuole posizionare altri oggetti caratteristici. E poi a San Lorenzo in Campo il museo archeologico è fruibile anche ai bambini. I simpatici personaggi li accompagnano nelle sale e c'è un biglietto unico. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Si fingono turisti per poter rubare ladri avvistati e rincorsi dai vicini. Colpo fallito in una villetta in via Sanzio. Poco prima hanno chiesto informazioni per un alloggio appunto fingendosi turisti. E veniamo ora al resto del Carlino. Abbiamo visto già la prima pagina del giornale. Vediamo subito l'interno e vediamo addirittura due pagine dedicate alla visita del presidente Mattarella. Juan Diego Florez in stato di grazia per le nozze d'argento con Pesaro applauditissimo il tenore peruviano affiancato da tante stelle. la degna chiusura di un bel festival. E veramente il ROF è sempre più la ribalta internazionale per quanto riguarda la lirica. Ma ci sono anche ovviamente qui polemiche perché ogni evento di grande spessore suscita delle reazioni contrarie. E questa volta le reazioni contrarie vengono attribuite addirittura dalla stampa. Ebbene, il protocollo rigidissimo ha gettato alle ortiche un clima che poteva essere ben diverso. Scrive oggi Roberto Damiani sul resto del Carlino. I giornalisti chiusi in gabbia nell'ultimo scacco dell'alloggiato della prefettura come scimpanzè al circo. I poliziotti a farci la guardia dando persino le spalle alla platea stando attenti a che nessuno oltrepassasse la tela elastica della gabbia. Insomma, forse è un po' troppo quest'ordine pubblico così presidato da tante forze dell'ordine. Mattarella l'omaggio e gli applausi al ROF la piazza blindata abbraccia il presidente. Arrivato in leggero anticipo ha salutato il pubblico e alla fine si è complimentato personalmente con il direttore Michele Spotti. C'era con lui anche la senatrice Liliana Segre. sono fedele a Pesaro al ROF e anche al presidente tre motivi per essere qui ha dichiarato la senatrice. Disco o sci si riparte il ministro scende in pista ieri Gradara è stata fatta visita del ministro del turismo il leghista Garavaglia prima tappa appunto a Gradara era in visita delle marche per i locali da ballo Spiro dopo l'estate ha dichiarato quindi preannuncia un'apertura delle discoteche e lavoriamo per la stagione sulla neve la questione del personale basta reddito di cittadinanza ha detto si distrugge così la manovalanza le discoteche intanto vediamo di dare un sostegno a che è stato chiuso per legge questo è già stato deciso e lo faremo ha dichiarato poi speriamo che ci siano le condizioni per riaprire penso dopo l'estate ha detto il ministro e qui lo vediamo con il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che ha coordinato un po' la visita del ministro nella nostra regione medici Novax altri cinque sospesi e la richiesta dell'Asur all'ordine diventano così 21 i sanitari iscritti all'albo che dovranno interrompere la loro attività perché non vaccinati il problema è come sostituirli dopo le drammatiche carenze di organico all'interno degli ospedali oltre 150 i sanitari che potrebbero essere interdetti dai propri ordini professionali insomma si va con la mano pesante però dall'altra parte si così insiste sul fatto dell'organico che manca ancora sulla pagina di Fano il mare si mangia un'altra fila di ombrelloni proteste a Ponte Sasso dove i bagnini chiedono le scogliere a bagni marino bagnanti dirottati in altre spiagge problemi a bagni Alda la stagione sta volgendo al termine ma con la lotta dei bagnini contro l'erosione l'ammaroggiata dei giorni scorsi ha di nuovo messo in difficoltà le concessioni di Ponte Sasso bagni marino ha dovuto rinunciare a 12 ombrelloni in prima fila bagni Alda ad altri 7 che si sono aggiunti ai 40 persi dall'inizio dell'estate insomma l'erosione dove non ci sono le scogliere dove queste sono insufficienti continua ad erodere metri e metri di spiaggia e questi sono danni sensibili per le concessioni balneari e qua abbiamo un articolo curioso chiamiamolo così e si parla sempre di cronaca sesso in stazione e tutti vedono tutto residenti esasperati filmano la scena e contattano il sindaco c'è un degrado enorme bisogna intervenire e questo degrado è riassunto su questo piccolo sommarietto bivacchi prostitute spaccio di droga sotto le finestre accade l'incredibile a Cagli sanità applauso dell'Udc finalmente si investe il partito dello scudo crociato parla di consonanza di idee totale con l'assessore Baldelli e detta le prossime mosse ed ora vediamo lo sport sul resto del Carlino vediamo che cosa ci scrive per quanto riguarda la vis e l'alma vis biz tifosi venite allo stadio il titolo che appare sull'esordio della squadra contro il Modena anche l'ex presidente in linea con le parole di Amadori in settimana i supporter decideranno sul da farsi gli stadi hanno riaperto ma in pochi se ne sono accorti dice oggi il resto del Carlino non solo a Pesaro un po' in tutta la Coppa Italia in Serie C l'affluenza non è stata alta Ancona in Ancona presenti 807 spettatori 638 a Siena ancora meno 436 al Benelli vedere un prato deserto con sì e no 100 persone ha però deluso tutti insomma bisogna qui c'è un appello proprio ai tifosi venite a vedere a sostenere la squadra anche nei momenti delle amichevoli squadra tosta l'idea di solidità anche se davanti punge poco si può partire in questo modo per quanto riguarda l'analisi tecnica dopo il debutto e allora squadra tosta si dice in questo articolo che si difendeva bassa e chiusa sintesi efficace molto più di certi commenti modenesi che hanno parlato di gara dominata dai canarini e per quanto riguarda il fano calcio ecco l'alma formato rivisondoli granata in ritiro con mister Gioffre 29 in rosa tutti i volti inediti e con molti giovani due i fanesi i fanesi sono Andrea Giorgini che è rientrato dal prestito delle latina e Mattia Morsucci che due stagioni fa fece due gare in Coppa Italia di serie C questo per quanto riguarda il resto del Carlino vediamo il corriere adriatico per quanto riguarda la pagina dello sport inizia la stagione del fano ecco il gruppo per il ritiro il responsabile tecnico Agliano ha diramato la lista dei giocatori convocati raduno oggi a rivisondoli la pattuglia degli over si allarga con il difensore svizzero degli Icarni 24enne ex Geno e Carpi presumibile che in arrivo ci siano altri rinforzi Simoncelli ed Esposito solo i nomi più gettonati vediamo anche se riusciamo a ritrovarla anche la squadra pesarese eccola qua Bravavis alla pari col Modena ha perso ovviamente però insomma la prestazione è stata giudicata all'altezza della situazione Giraudo dopo la sconfitta di misura con gli emiliani dice loro sono una corazzata ma abbiamo tenuto botta e con questa notizia terminiamo qui la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento al notiziario di questa sera alle ore 20 e 30 buona giornata grazie a tutti